Gentili telespettatori, buona giornata. E così Schlein imita, si affianca, fiancheggia Landini nell'ideologia faziosa e dice questa destra va fermata. Intanto dire questa destra va fermato bisognerebbe sostituire con questo governo va fermato. Perché Elena non dice questo governo va fermato ma dice questa destra va fermata. Perché lei la mette sulla competizione destra sinistra. Perché, attenzione che la Schlein è furba, non è l'ultima arrivata, la Schlein ha 40 anni ed è una donna scaltra e furba. Quando dice delle cose come questa destra va fermata non è detta a caso questa frase. Non dice questo governo va fermato perché dire questo governo va fermato può essere interpretato come un tentativo di sovvertire le istituzioni e il governo regolarmente eletto. Mentre dire questa destra va fermata è più generico, la destra come pensiero, come mentalità, quindi non come governo. Non il governo va fermato ma questa destra va fermata. Ma ovviamente lei si sta riferendo al governo Meloni ma con una frase che lascia pensare a qualcos'altro o almeno a qualcuno magari può pensare a qualcos'altro. E così la segretaria del PD Elena detta Ellis Schlein dice mettete giù le mani, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Vi ricordate questa canzone? Mettete giù le mani dal diritto di sciopero. In realtà nessuno sta toccando il diritto di sciopero in Italia. Sapete che in Italia insieme alla Francia, l'Italia e la Francia insieme sono i due paesi europei dove si fanno più scioperi in assoluto, però credo che con Landini uscito dal letargo l'Italia ormai abbia vinto il campionato europeo degli sciopperi. Noi primeggiamo sempre in tutto. Bene, quindi a questo punto dal palco del congresso di Europa Verde a Chianciano la grande capa del Partito Democratico si rivolge al governo però chiamandolo questa destra. Ecco, e dice noi condividiamo una visione del futuro che ci tiene insieme parlando con AVS. L'ho sentito nelle parole di Angelo Bonelli, ma anche quelle adesso di Nicola Fratoiani. Quindi lei sente una visione futura nelle parole di Angelo Bonelli. C'era una canzone di Ligabue, ti sento, bellissima, no? Quando lei dice ti sento nelle parole mi è venuta in mente la canzone di Ligabue. Va bene, andiamo avanti. E così ci tiene insieme la giustizia sociale e la giustizia climatica. Che cosa? La giustizia climatica? Parliamo delle alluvioni in Emilia-Romagna perché non hanno fatto i laghi artificiali, non hanno fatto la metà? E l'acqua al posto che andare nei laghi artificiali che non hanno fatto è finita in mezzo alle case della gente? Ma caspiterina, ci vuole un bel coraggio a parlare di giustizia climatica. Io se fossi in voi a sinistra lascerei perdere questo argomento, lo lascerei proprio perdere perché è 50 anni che l'Emilia-Romagna viene governata dalla sinistra e queste alluvioni che provocano sempre danni in Emilia-Romagna, a differenza del Veneto che ha fatto i laghi artificiali, qualche responsabilità ce l'ha, forse più di qualche responsabilità. Ma lei dice giustizia sociale e giustizia climatica. Va bene Lelli, andiamo avanti. Ma poi Schlein dice siamo stati e saremo in un futuro al vostro fianco per difendere il diritto costituzionale di sciopero. Non dico più niente perché non ce la faccio più col mettere in ballo la Costituzione in ogni frase. È veramente stucchevole, davvero stucchevole. E poi diciamo al governo mettete giù le mani dal diritto di sciopero perché è un diritto costituzionale. Aiuto, aiuto. Se ne devono convincere. Ma chi? Essi? Se ne devono convincere. Non si può soffocare la voce di dolore. Ma di chi? Di sofferenza. Ma di chi? Di milioni di italiani preoccupati, lavoratori e lavoratrici, o meglio lavoratrici e lavoratori, che hanno una prospettiva davanti di precarietà. Dobbiamo contrastare la precarietà, dice Lelli Kelly. Scusate, posso dire qualcosa a Lelli? Senti, Lelli. Lelli detta Lelli o Lelli detta Lelli? Elena è del detta Lelli delta Lelli. Va bene, senti Lelli, una cosa. Le persone hanno davanti la prospettiva della precarietà. Ma no, Lelli, ti sbagli. Il problema non è la precarietà in Italia. Il problema è la paga da fame. Non c'è un problema di precarietà in Italia. Perché se io ho una gelateria che apro solo d'estate, quelle persone che lavorano lì le posso assumere per quattro mesi, cinque mesi. Se ho un albergo aperto d'estate, le persone che lavorano le assumo solo d'estate, gelaterie, alberghi, negozi che aprono solo d'estate in Riviera Romagnola, oppure gelaterie, o che ne so, stabilimenti balneari, bagnini. I precari ci saranno sempre. I precari sono persone che non hanno il contratto a tempo indeterminato, ma ce l'hanno a tempo. Ma il problema non è il contratto precario che poi è in fortissima diminuzione. Il problema sono gli stipendi bassi che ce li ha. Il precario che lavora cinque mesi nello stabilimento balneare, ma ce l'ha anche l'impiegato che poi forse, se riesce, va in quello stabilimento balneare a fare le vacanze. Ma non credo, con gli stipendi da fame che ci sono in Italia, ormai gli italiani non vanno neanche più in vacanza. È pieno di stranieri l'Italia, per fortuna. Quindi il problema non è il precariato che è in forte diminuzione, il problema sono gli stipendi da fame. Lelli non è il precariato, sono gli stipendi. Ditelo a Lelli Kelly le sue scarpine. No, le scarpine deve telefonare all'armocromista tra una partita dell'altra di PlayStation, telefono all'armocromista, e sono Lelli Kelly le mie scarpine. Quale colore metto? Il rosa o il verde? Bene. Così, questa destra va fermata, dice Lelli. Stanno arrivando al minimo storico di spesa per la sanità. In che senso? Vabbè, forse non ho tempo di parlare di queste nuove potenti riflessioni, ma ve lo racconterò in un altro video. Forza Lelli che ci fai fare tanti video al giorno, pensate un po' se verrà sostituita e arriverà qualcuno tristissimo che non dice mai sciocchezze. E come faccio io? Com'ha già fa? Come faccio? Maron, Maron dell'ingoroneta. Comunque, ingoroneta congeziona. Arrivederci a tutti e grazie.